Ah ragazzi questo è un unboxing che deve essere per me rilassante Perché i capelli così? Vedete in cantinetta manca qualche telefono Ma soprattutto mancano i due pixel Li sto flashando perché è arrivato Android 11 I flash non sempre riescono col buco, meglio non sempre riescono Sto litigando, allora per calmarmi Faccio un bel unboxing perché ci sono cose interessanti Quella che avete visto in copertina è qua dentro Ma parto dal pacco a sorpresa in cui non so cosa ci sia dentro Spero sia una bella sorpresa perché se no il mio nervosismo poi potrebbe anche peggiorare Ecco lo sfogato sul pacco che avete visto aperto alla Schwarzenegger Oh la cinesata, questa è una cinesata che è arrivata da Banggood Ma con che corriere è arrivata? Non lo so perché quando ho comprato da Banggood Arrivano sempre con corrieri diversi però non ho pagato i dazzi Anche perché c'è una franchigia mi sembra di 21 euro Quindi i prodotti che costano meno di 21 euro comunque arrivano senza dazzi Ah questa è la borraccia termica di una delle start up incubate da Xiaomi E vabbè adesso la richericherò in qualche modo Ma che cavolo c'è proprio la presa 220 quindi non c'è la micro usb No no bisogna proprio attaccare qua dentro la 220 per poi accendere Vabbè la porterò in qualche gita vi racconterò come funziona E poi si è tornato il buon umore Anche questo pacco penso che possa contribuire al mio buon umore Perché ho comprato visto che era in offerte punto club Uno dei pezzi che mi serviranno per un progetto che ho sulla 500 dei miei genitori Sì sì perché ho deciso di fare un video Magari fatemi sapere se mi sembra una vaccata o una genialata Su come rendere smart magari una vecchia macchina che non ha un auto radio smart Un sistema infotainment Android Auto CarPlay Blibli 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 blum E questo è uno dei pezzettini che mi potrà servire Non devo buttare cose a caso perché sennò li perdo e il progetto va a carte 48 Cosa c'era qua dentro vediamo un attimo da chi arriva da chi arriva Arriva da Pablo Pablo che non è scobarra Chissà mai che prima o poi mi arrivi anche il suo telefono Tutto da annusare Si scherza ovviamente Un pacco con dentro che cosa Ah me l'aveva detto Pablo che me l'avrebbe mandato E questo potrebbe essere un altro tastellino di quel progetto Tra l'altro vi racconto la storia di Pablo Forse ve l'ho già raccontata Non so se vi ricordate Quel supporto da auto con ricarica wireless Con apertura automatica Si apriva, si chiudeva Blibli blum e blibli blum Pablo era in difficoltà In difficoltà economiche Aveva un progetto, una start up Però faceva fatica E allora niente ho fatto la recensione del suo prodotto Sapete che quando recensioni del suo prodotto Comunque interessanti, belli Qualcuno di voi se li va a comprare Perché gli interessano E gli piacciono Pablo ha venduto tanti supporti Della precedente generazione Questo gli ha consentito Di andare in Cina con più forza Far costruire dei supporti migliorati Col suo brand Ma soprattutto con i suoi Come dicono in America improvement Quindi con i suoi miglioramenti E questa dovrebbe essere la versione 2.0 Che è la versione con la possibilità Di accendere, spegnere Quindi abilitare e disabilitare La ricarica wireless Di abilitare o disabilitare L'apertura e la chiusura Ah sto prendendo tutto automatico Quindi lo zzz e zzzà E quindi migliorato Lo vedremo Sì lo userò anche quello Per il progetto 500 Che non era smart Ma che lo diventa Non la 500 vecchia ovviamente Era una 500 Però vi ricordate col blu e mi Siamo giunti al telefono Che può farmi dimenticare Di Android 11 Anche perché la Frammentazione di Android È fantastica Cioè Escono adesso i telefoni E gli aggiornamenti Di Android 10 E vi assicuro Che stanno uscendo ancora adesso Perché nella cantinetta là Che stavo comunque Smanettando e guardando Alcuni telefoni hanno ricevuto Proprio Android 10 Adesso Molti sono ancora con Android 9 Esce l'11 E quindi Da 9 all'11 Un po' di casino su Mondo Android Ma perché c'è Confidential Ah perché È il Sample marketing Ma io me ne frego Qua c'è scritto Non si possono fare foto Non si può vendere Non si possono Liccare Informazioni Cara Samsung Mi spiace Contraverrò a tutte Queste norme Che ci sono scritte Su questo adesivo Me ne frego E ovviamente Ve lo racconto Zitti tutti Perché la pellicola davanti È particolarmente Ben attaccata E fa anche tanto casino Che bello Sì sì Mi sta proprio tornando Il buon umore Vediamo cosa c'è In confezione Ovviamente sto parlando Di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Una delle sigle plunge Del mondo Con l'accento per Comunque 10 per ottica Come zoom Padelun Padelun come si dice qua a Milano Perché è grosso Pesantiello Ma forse sarà che sono abituato Dal flip Perché in questi giorni Ho usato proprio il flip In confezione Il carica Batterie Ultra Rapido Poi abbiamo Il Cavo USB Di tipo C E poi le AKG Neanche qua ci sono Le buds In confezione Ci sono le classiche AKG Ovviamente tipo C Perché non c'è Il gecchettino per le cuffie E anche qua c'è L'adattatore C'è l'adattatore Vuoto sto scatolino Ma forse perché la confezione Quella Pre 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 Vendita No è vuoto Ma forse in confezione Ci sarà l'adattatore USB Tipo C Per andare a copiare I dati da Vecchi telefoni Vediamo se c'è la Coverina No No Se incastra Se incastra Se incastra Se incastra Se incastra La scatoletta Sopra ce l'ho fatta Lo spazio per la cover c'è Nello Z Flip Mia confezione non c'era Ma magari in quella diventa Ci sarà Perché Nella confezione Z Flip diventa C'era Ma che lingua è questo qua Fiii Creni Ma che cavolo Vabbè Mettiamo l'italiano Vediamo se ce la facciamo Ma nel frattempo Sono arrivate anche Le Galaxy Buds Plus Quindi Anche qua La versione Rivista e corretta Delle Galaxy Buds Tra l'altro in versione Cangiantina Rosellina Le precedenti Buds Mi erano piaciute Forse è stato un po' Troppo buono Nel giudicare La qualità Dei microfoni Che avevo definito Molto buono Ma in realtà Quando le avevo provate Quella settimana Era molto buono Ma soprattutto Le cuffie Che hanno migliorato Molto La soppressione Dei fruscì esterni Sono uscite Dopo Tipo le Free Buds 3 Tipo altri tipi di cuffie Quindi è ovvio Che chi compra Magari le Buds dopo Anche io stesso Ho dei metri Di giudizio Che sono cambiati Nel frattempo Comunque adesso Ho degli ottimi Metri di giudizio Perché le cuffie Dell'ultima generazione Quelle con l'intelligenza artificiale Blah 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 Vanno Molto bene Lato microfoni Vedremo se anche Queste Galaxy Buds Plus Che sono migliorate Proprio in quel senso Oltre che nella batteria Gireranno Bene O male Adesso Installo Questo S20 Plus Cerco di Flesciare Il Pixel Perché volevo Raccontarvi Oggi pomeriggio Proprio della cantinetta Ma soprattutto Stasera Grande parti Di presentazione Del Pixel Inizio a fare Qualche foto Con lui Del Pixel Ormai sono fuso Perché ho il Pixel Qua Ho forse due Pixel In testa Del Flip E poi Weekend Non so se ce la faccio Cerco di andare Offline due giorni Sabato e domenica Ho dei video Di repertorio Farò un po' di foto Con questo telefono Ma voglio proprio Prendermi Così Due giorni di vacanza Ciao Vado a frecciare Ciao Grazie a tutti